No, ci avrei tenuto a esserci, ma purtroppo è stata una settimana complicata, perché abbiamo presentato il rapporto Svimez l'uno di scorso, che per noi è l'iniziativa più importante dell'anno, inevitabilmente poi è stato difficile allontanarsi da Roma. Dicevo, è importante per voi esserci come Svimez perché siamo molto interessati alle attività che sta portando avanti il parco, perché riteniamo che la collocazione strategica di Pantelleria al centro del Mediterraneo, nonché le esperienze che sta portando avanti il parco, siano esperienze rilevanti non soltanto per Pantelleria o per la Sicilia, ma secondo noi rappresentano un'esperienza che può essere un po' di guida in qualche misura di una riflessione più ampia di quale può essere il ruolo che alcune aree del mezzogiorno, che per la loro caratteristica sia di localizzazione geografica, sia di specializzazione produttiva e anche di tradizione di storia accumulata, possono rappresentare un'esperienza che può diventare una riflessione generale sulle prospettive di sviluppo sostenibili nei prossimi anni. Proprio su questo tenevo a mettervi di parte della riflessione che insieme a Salvatore Gabriele, al parco e al Ministero dell'Ambiente stiamo facendo su una serie di iniziative che vorremmo fare con Pantelleria e da Pantelleria più che su Pantelleria. una riflessione più ampia sul ruolo del capitale naturale e in qualche masiera di maniera sull'identificazione di un nuovo modello di sviluppo all'interno della quale proviamo a ribaltare la letteratura recente che ha fatto della perifericità un elemento di debolezza. Una perifericità rispetto a una idea di sviluppo che volgeva le spalle in qualche misura al Mediterraneo pensando che l'unica possibilità di fare crescere il mezzogiorno fosse quello di agganciarsi alle grandi locomotive del centro Europa. La riflessione che stiamo facendo e che abbiamo fatto già nel rapporto invece è che anche le esperienze di convergenza selettive che ci sono state in Europa nel corso degli ultimi anni hanno mostrato che se aderiamo a questo modello di crescita inevitabilmente l'Europa del Mediterraneo, l'Europa meridionale rischia di rimanere sempre marginale nei processi di sviluppo. La riflessione che invece vogliamo fare, cogliendo soprattutto le opportunità che si stanno costruendo nell'ambito della costruzione di un nuovo modello di sviluppo che appunti, parta dalla prospettiva del New Green Deal, può invece ribaltare questa lettura geoeconomica e che invece proprio la potenziale di crescita che ancora esiste, che secondo me diventerà sempre più centrale in questi nuovi modelli di sviluppo, che proviene dall'area del Mediterraneo, può essere invece non il problema dell'Europa, ma in qualche misura ne può rappresentare la soluzione. Questo vuol dire innanzitutto nella politica nazionale, che abbiamo detto nel rapporto, ribaltare questa retorica della contrapposizione territoriale nord-sud, che è nord Italia, tutt'Italia, nord Europa, sud Europa, che ha portato a un indebolimento del percorso di crescita, non soltanto delle aree timboli, ma anche delle aree forti. Come si fa a costruire un nuovo modello di sviluppo basato sulla valorizzazione dell'interdipendenza, invece, tra sud e nord. Vuol dire provare a sfruttare, a valorizzare soprattutto le potenzialità che abbiamo in queste aree. E all'interno di questa ricomposizione degli interessi tra sud e nord Europa, tra sud e nord italiano, noi crediamo che proprio sul tema della valorizzazione della bioeconomia, del Green New Deal, del capitale naturale, può costruirsi non soltanto un progetto di sviluppo economico, ma anche un nuovo progetto culturale, un nuovo progetto culturale che parte da sud per dare un contributo alla crescita dell'Europa e del paese. All'interno di questa riflessione, che ho cercato di semplificarvi in questi brevi minuti, la FIMES si mette a disposizione del parco, proprio con le sue competenze di carattere economico, per cercare di, in quel luogo, ruire un ruolo di riflessione su come sviluppare processi di sviluppo basati sulla gestione dei sistemi ambientali, territoriali, vuol dire non soltanto patrimonio ambientale, patrimonio naturale, ma vuol dire anche un potenziale di patrimonio economico che esiste in quest'area, mettendo a disposizione le nostre competenze economiche e del delineare questo progetto di sviluppo. Io conosco l'esperienza di Pantelleria, per il mio lavoro passato al Ministero dell'Agricoltura, come a volte tradizione, storia, specificità e distintività possano essere pezzi anche di una valorizzazione economica dei prodotti sul territorio, dei prodotti nel mondo. Quindi come la valorizzazione della biodiversità e della sostenibilità siano un asset economico. Questo, vi dicevo, richiede senz'altro un'analisi di ricerca anche attraverso, noi abbiamo un modello economerico che ci può consentire di valutare anche quantitativamente gli spazi di crescere e di sviluppo, ma secondo noi riguarda anche un grande progetto culturale. Per questo pensiamo che nelle azioni che dobbiamo mettere in campo nel corso del 2020 non solo dobbiamo fare ricerca e analisi, quanto più anche seria e quantitativa, ma anche dobbiamo avviare, utilizzando il valore simbolico di Pantelleria, il coinvolgimento dei giovani europei sulla definizione di questo nuovo sogno di contribuire al rilancio dell'economia europea partendo dall'esperienza del Mediterraneo, partendo dalle sue produzioni, dalla sua cultura, dalla sua tradizione, dal patrimonio naturale, dalla biodiversità come è un'altra cosa, come il concetto di maggior adattamento dei percorsi di sviluppo e anche aprendo una riflessione sulla componente sociale e la transizione energetica. Questo è un altro punto secondo me di grande interesse, su cui vi invito anche voi a aprire una riflessione. Il processo di innovazione e di globalizzazione negli ultimi anni ha senz'altro contato crescita e sviluppo, però probabilmente ha fallito nel consentire che questo sviluppo non ampli le disuguaglianze, cioè in qualche misura a volte i processi di innovazione e di crescita hanno finito per escludere le fasce di operazione più debole. Questa medesima riflessione la dobbiamo fare nel momento in cui definiamo un nuovo progetto economico e si basa sulla sostenibilità, perché la sostenibilità è senz'altro sostenibilità economica e sostenibilità ambientale, ma non può avere un percorso condiviso se non mettiamo insieme anche il concetto della sostenibilità sociale. Troppo spesso la considerazione di fenomeni ambientali è stato semplicemente un elemento legato alla riduzione delle emissioni o alla riduzione dell'inquinamento, rischiando che questo comporti un aumento dei costi dei beni e servizi che finiscono invece che per favorire le fasce più debole a rendere più difficile la sostenibilità economica proprio delle fasce più debole. Quindi invece vanno accompagnati questi processi, soprattutto con una particolare attenzione alle fasce più debole della popolazione, questo che vuol dire appunto introdurre nella nostra riflessione anche tutti gli elementi di sostenibilità sociale e quindi cosa vuol dire in termini effettivamente economici? Quindi considerando anche il tema dell'impatto sulle disuguaglianze dei cittadini un elemento fondamentale per pautare l'impatto delle politiche. Secondo noi, secondo me, intorno a queste brevi riflessioni, credo che il luogo, se il parco si farà promotore di una riflessione che tenga insieme questi aspetti, noi non soltanto facciamo una riflessione seria e sensata su quello che sarà il Mezzogiorno dell'Italia nei prossimi anni, ma se noi facciamo di Pantelleria il luogo in cui ci si può confrontare tra esperienze, mondi diversi, quindi anche il tema dell'interdisciplinarità, cioè Pantelleria può essere il poco in cui si siedono insieme economisti, giuristi, chi si occupa di agricoltura, chi si occupa di energie rinnovabili, chi si occupa di economia circolare, cercando di superare quella settorialità delle riflessioni che molto spesso appunto ha portato a interventi utili ma che non tenevano conto del contesto generale, con una particolare, vi ripeto, accentuazione sulla sostenibilità sociale dei processi di transizione ecologica, perché credo che quella sia la chiave per creare intorno a questo sano movimento ambientalista anche un consenso sociale che non può che riguardare tutte le facce della popolazione. Questa era un po' la riflessione che volevo condividere con voi, spero anche la qualità dell'ascolto sia adeguata e spero che Salvatore Gabriele non vi rimproveri. No, assolutamente Luca, intanto ti ringrazio. Ti ringrazio soprattutto perché credo che i tanti che in queste due giornate stanno seguendo e sono anche intervenuti diversi relatori, ma anche i nostri concittadini che stanno intervenendo a questo seminario colgono anche nelle tue parole una condivisione di una rete più complessiva che il Parco sta mettendo su a partire da queste due giornate dove una stratificazione che parta anche dal basso, che tu chiami oggi la necessità di colmare il divario delle diseguaglianze, parte anche proprio dalla necessità di parlare oggi dal basso delle sostenibilità ambientali a partire da quelle che sono le iniziative che su questo territorio, proprio sui temi della sostenibilità vogliamo costruire e qui tu troverai un parterre che dentro il modello di una visione più complessiva di tanti soggetti, di università, ricercatori, tu conosci per esempio Martina Ferracani che oggi ci ha raccontato tutto il modello che parte dal basso di educazione digitale che arriva anche a un modello di gestione della sostenibilità ambientale partendo dal mondo digitale partendo e raccogliendo le stanze anche dei bambini quindi anche un modello di gestione dei flussi della conoscenza che parte soprattutto dal basso quindi da questo punto di vista una rete che ha bisogno di trovare un forte raccordo e io credo che il ruolo a partire dal compito che è l'inistitore dell'ambiente e io ti ringrazio, tra poco si collegherà con noi anche la Giarratano ci ha dato di costruire il prossimo rapporto ambientale insieme allo Svimez e insieme ai vari soggetti alle varie università presenti già sul territorio questo ci permette di ampliare il raggio delle nostre conoscenze e soprattutto poter sperimentare un modello di gestione del territorio che vada oltre anche Pantelleria quindi questo è un po' colgo perfettamente le tue parole io credo che sia un po' la scommessa di questo laboratorio sul territorio che noi vorremmo costruire insieme a voi e ai tanti ricercatori che stanno lavorando con noi a partire dall'ultimo intervento prima di Martina della Bocconi che sta elaborando il piano di sviluppo socio-economico a partire dall'Università di Palermo che sta tirando fuori il piano di gestione forestale c'è tanti soggetti, tutto il tema della sostenibilità in campo geologico di un territorio che ha diverse conformazioni all'interno quindi c'è un lavoro che in qualche modo può diventare, arricchire un bagaglio di conoscenze e poi anche sviluppare una visione unitaria di quello che è un concetto di sostenibilità che dovrebbe essere quello che tutti oggi parliamo che è la nuova Green Duel su cui in qualche modo si creano le aspettative del futuro mondo che ancora non conosciamo quindi grazie a te, grazie Luca Salute e buon lavoro a tutti grazie 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 grazie